Tutti a parlare della prossima imminente edizione di Temptation Island ma anche dei vecchi protagonisti. Come Raoul Dumitras, uno dei fidanzati più chiacchierati del docu-reality che il pubblico ha conosciuto a giugno scorso. Era approdato al villaggio in Sardegna con Martina, ma al fallò di confronto finale le loro strade si sono divise. E a quanto pare non c'è alcuna possibilità di ritorno di fiamma, per quelli che si chiedono come sia il rapporto oggi fra Martina e Raoul, ma in realtà è praticamente inesistente. Entrambi hanno dichiarato di non essersi mai sentiti dopo la fine delle registrazioni del programma, motivo per cui ritornare insieme sembra un'ipotesi lontanissima nonostante lui sarebbe voluto uscire con la ormai ex fidanzata dalla trasmissione. Raoul di Temptation Island beccato con la famosa Ma se per Raoul il ritorno a casa è stato traumatico, perché un amore non si può cancellare così dall'oggi al domani, per Martina sembra che le cose siano andate diversamente. Una volta lasciata la Sardegna, infatti, non avrebbe accusato assolutamente il colpo, anche se la frequentazione con il single Carlo è durata pochissimo. A proposito di nuove frequentazioni, fa parlare molto di più di Sir Raoul. Stando al gossip, infatti, si sarebbe ripreso velocemente dalla rottura, è stato avvistato in atteggiamenti intimi con più di una ex tentatrice della trasmissione non solo. Nelle ultime ore circolano alcune indiscrezioni in merito a un presunto flirt tra l'ex protagonista di Temptation Island e una nota influencer. Si chiama Flamine Ferretti ed è molto seguita sui social. Con Raoul sarebbe stata a cena in un ristorante con vista panoramica di Piazza della Repubblica a Roma. Hanno pubblicato praticamente insieme la stessa storia su Instagram, poi diffuso dal sito Webbo. Non è detto che fossero soli, ma difficile pensare a una coincidenza. Forse sono solo amici di vecchia data e si sono rivisti? Non si sa ma intanto il gossip è partito.